Che differenza c'è tra la democrazia nata nell'antica Grecia e quella attuale? La differenza sta nel fatto che mentre nell'antica Grecia abbiamo una democrazia diretta tutti i cittadini si ritrovavano nella piazza e decidevano insieme, prendevano le loro decisioni e votavano le leggi. Adesso nelle democrazie moderne non c'è una piazza sufficientemente grande per contenere tutti i cittadini. I cittadini scegliono i loro rappresentanti che decidono, votano le leggi e esprimono un governo. La differenza fra la democrazia dell'antica Grecia e la democrazia attuale sta nel fatto che gli antichi Cresci avevano una democrazia diretta. La democrazia attuale è una democrazia rappresentativa. Ognuno di noi quando esprime il suo voto decide i suoi rappresentanti che votano le leggi e esprimono le linee di governo. Ciao! Ciao al prossimo video! Vi aspetto! Ciao! 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 Ciao!